Mi si affianca. Sto per entrare nella panda nel parcheggio deserto. Mi si affianca stretta stretta, una macchina di lusso. L'uomo alla guida abbassa il finestrino dalla mia parte, si toglie gli occhiali e dice Ciao, come va? Io sono stato oggetto altre volte di questa tentata truffa. Lo guardo senza dire niente ed entro nella panda. L'uomo insiste. Come va? Che fai? Io abbasso il finestrino e gli grido Non ti vergogni. Non hai altro da fare che truffare i vecchi. L'uomo si rimette gli occhiali e fugge via. Perché? Commento. Perché vivi la bassa condizione umana di cui avevi bisogno al momento dell'incarnazione come l'imbroglione. La tua reazione resterà come un seme nella coscienza del truffatore e gli servirà per superare la truffa in una prossima vita.